Musica Eccoci pronti per un nuovo episodio Mannaggia uo' e' porco Non usano come titolo del video Oh che è sto ma Ma vissi fa Ma vittà 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 Ma... Quanto hai i tozzi? 3 Ha bruciato un crucifisso Mi ha fatto una nitata Attenzione MF5 in libro Ha detto E' lo spirito Cosa? E' impossibile E' impossibile Zeno con un buco di lucia Comunque Qui 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 Ma zero di tutto Non è che non va Eh, ci stavo a pensare Sai Fungi Hai suonato tu? Hai suonato tu una chitarra? Ho sentito una chitarra suonata Ho sono impazzito La chitarra è qua Grazie a tutti. No! Nevas è morto. Sta qua sotto pure, secondo me. E' una madonna! Oh, cazzatissimo questo! Ma che è? Una madonna! Che sfaccima! Niente! Non è possibile! Ciao! Non è fattibile! Guarda come sono morto! Sembra io che dormo! Eccolo! Ma te, secondo me, è Jin! A te! Ha lanciato quelle roba? L'avete iniziato voi, l'ombrello? No! E' lui che lancia la roba! Dove ho scritto più? Potrebbe essere un master case! Ma noi abbiamo le prove per il master case! Come no? C'è un strovioletto e il boss? Come? MF livello 5! Ma l'MF livello 5 mentre caccia? Non è o MF? Non è la mente caccia! E' quando ha bruciato il crucifisso è la stessa cosa? Ma sì! Ma bene, perché effettivamente la caccia è caccia! È finito ora! Corio! Corio! Bene! Scendiamo, andiamo a verso il mongo! Come? C'è qua sotto, grazie! Ah, bottiglia di vino! No, è birra! Cacca! Oh! MF a 3 qua! MF a 3 qua! Sì! Sì! Ciao, sei qui? È qua! Prima di rispondermi? Ma si chiama Jason Voorhis, il personaggio! Che è morto! Che è morto! Che è morto! Ma non ci credo! Ma c'è davvero una maschera di Jason? Io stavo scherzando! Lo stronzo si chiama Kim Murr! Mi è morto! Non è che è veramente Jason Voorhis, che è morto! Oh, Dots, 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 Dots L'ho visto Ho fatto una foto al fantasma Ha spostato questo Quindi Spiribox e Dots? Sì, 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 ho fatto una foto Sì, sì, ho fatto lui, ho buttato giù lui Ha spaccato le luci Quindi che cosa può mancare? Che la temperatura non scende Libro Sì, ho visto il libro Sta scrive? Sì, sta scritto Sì, ha scritto Sì, ha scritto Sì, ha scritto Siamo cerno Bene, molto bene Il mio primo Deolo Pugano a me Che siamo in realtà Che siamo sopravvissuti